Musica Ragazzi benvenuti sul sito di LikeTV.it e naturalmente sul sito di DanceTravelEurope.com Questo spazio esclusivamente dedicato su internet è con Mauro Bucci, presidente ITE per ricordare che siamo agli sgoccioli per ciò che riguarda il viaggio al Minus Contact Tra l'altro una notizia è che i biglietti non ci sono più, ma guarda caso i biglietti, c'è anche la possibilità di comprarli su TicketOne sono tutti esauriti e in Abruzzo sono rimasti alcuni solo a noi di DanceTravelEurope Sì, avevo già risonuto questa situazione, che sarebbero finiti i biglietti in un evento sold out quello di Halloween al Palazzo dei Congressi per l'anniversario della Minus, quindi dei 10 anni, l'evento Contact Allora, loro adesso gli ultimi posti, davvero ultimissimi del Bipiano che partirà il 31 ottobre alla volta di Roma Cosa devono fare? Abbiamo 10-12 posti, tra l'altro non abbiamo neanche fatto in tempo pubblicizzare in maniera forte che già il Bipiano è quasi riempito, però vogliamo che tutti sappiano che 10 posti sono disponibili perché come dicevi tu i biglietti sono finiti Io non direi un numero preciso, sono 10 che oggi è il 17 di ottobre quindi se ci vedete più avanti magari chiamate questo numero che vedete qui il numero della DTE che vedete qui nel sito di Like o nel sito della DanceTravelEurope chiamate Mauro Buccio e vedete se ce ne sono ancora Sì, tra l'altro avete la possibilità non solo di trovare il biglietto, ma quindi viaggio complito quindi tutta sicurezza con il Bipiano della DanceTravelEurope, quindi non solo il biglietto ovviamente Noi vi aspettiamo invece il prossimo 14 di novembre con il DTE Privé al 1926 di Pescara che è stato bello Sì, diciamo due ultime cose, abbiamo regalato un viaggio al DTE Privé ne regaleremo quello del venerdì 14, regaleremo il primo viaggio per l'amore 2009 il viaggio di Capodanno e un'ultima cosa, ci sono anche due posti gratuiti che verranno sorteggiati nella serata del 24 al Touch la serata del Enjoy dove so che suonerai anche tu quindi ci sarò io, Federica Bebidolle e tantissimi altri quindi lì estrarremo due viaggi per il Minus Contact più uno per l'amore 2009 e ci stiamo già preparando quest'anno faremo due Bipiano per l'amore 2009 e tutto, tutte le altre informazioni riguardanti Like TV le vedete qui attorno sul sito idem se ci state seguendo dal sito DanceTravelEurope.com ciao 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 ciao